1 aprile 2012. Entro questa data l'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale gestirà tutte le pratiche previdenziali per via telematica. Per domande di pensioni, assegni congedi, indennità, rimborsi e quant'altro, gli utenti dovranno servirsi del portale IMSS. Vi si accede attraverso una password che si ottiene collegandosi al sito www.imps.it. Nella sezione e servizi online dell'home page, il PIN, online, può essere richiesto, attivato, revocato, ripristinato o convertito. Un passaggio epocale, quello dalla fila agli sportelli alle pratiche telematiche, che l'IMS ha avviato già da tempo per rendere le pratiche più rapide e trasparenti. E a chi obietta che l'accesso alla rete non sia alla portata di tutti, soprattutto dei più anziani, il direttore regionale dell'IMS Puglia risponde. L'utenza può avvalersi anche di apporti che l'istituto si è modificato, come per esempio il Contact Center, che è un mezzo telefonico, un sistema telefonico, che è stato modificato completamente dall'istituto. Vogliamo ricordare il numero? 800-164. Cittadini o aziende in difficoltà col portale IMSS possono rivolgersi a patronati e consulenti del lavoro. Proprio a loro, che fanno da intermediari tra istituto e utenti, l'IMS ha illustrato il nuovo servizio telematico nel corso di un workshop dedicato. Il primo vantaggio sia tracciabilità della domanda che viene presentata, perché l'utente può verificare i vari stati della pratica. Può interloquire senza accedere presso i nostri sportelli, quindi le code, le file presso gli sportelli, ma inviando la domanda da casa. I tempi di lavorazione delle pratiche IMSS si sono comunque già velocizzati. Nel 2010 la Puglia è stata la regione che ha speso di più in ammortizzatori sociali, 200 milioni di euro solo per le casse integrazioni in deroga e il 92% di queste somme è stato erogato dall'IMS entro 30 giorni. L'obiettivo del Comitato regionale dell'IMS è quello di far ottenere ai cittadini che presentano un'istanza all'istituto, all'IMS, la prestazione nel più breve tempo possibile. Attualmente per l'invalidità civile vengono impiegati tempi non accettabili, specialmente per chi presenta una patologia oncologica, i tempi devono essere ristretti, così come prevede la legge.